La russa, come ex ministro della difesa, come giudica la gestione di tutta la questione internazionale da parte del governo italiano? Secondo alcuni sta usando molta prudenza. La prudenza è giusta in ogni parte del mondo, ma l'Italia non sta usando prudenza, sta usando assenza. Una cosa è la prudenza, una cosa è l'assenza. Noi siamo assenti dai tavoli dove si decide qualunque cosa. Noi siamo assenti nei momenti in cui bisogna assumersi responsabilità per bloccare la crescita perlomeno dei movimenti terroristici. Credo che questa assenza finiremo col pagarla carico. In che senso? Io credo che alla fine chi si illude di poter, come gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia, finisce come gli struzzi che sono aggrediti senza che neanche se ne accorgiano.